Ciao a tutti, come è riconoscere un narcisista al primo incontro? In questo video voglio spiegarti come puoi riconoscere un narcisista al primo incontro ed è molto importante questo per evitare di prendere delle cantonate anche forti. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare a delle live dove darò delle risposte precise alle tue domande. Adesso veniamo al tema come riconoscere un narcisista al primo incontro. Allora, riconoscere un narcisista al primo incontro è importante perché se tu non riconosci un narcisista al primo incontro non hai dei grandi rischi di finire in una situazione estremamente negativa. E vediamo un attimino quali sono i modi migliori per poter riconoscere, diciamo così, un narcisista subito al primo incontro. Allora, beh, la prima cosa che tu puoi notare, diciamo, è il lovebombing perché il narcisista al primo incontro tende sempre a fare lovebombing, tende sempre, diciamo, a manifestarsi proprio con il lovebombing, a manifestare nei tuoi confronti un interesse, un qualcosa di, come dire, anche eccessivamente gratificante. Cioè ti dà tante attenzioni. Quindi il narcisista ti soffoca di attenzione al primo incontro, ti invita fuori, ti propone, ti incalza, sottolinea già da subito, ah, stiamo proprio bene assieme, che bello aver trovato una donna come te, un uomo come te, oh, che bello, oh, sole mio, sta in fronte a te, il vento caldo dell'estate. Ecco, quindi tutte queste cose qua tende, diciamo, a metterli in atto dall'inizio, per cui questo è un indizio, no? Oppure ti fa lovebombing in modo covert, ma sempre lovebombing. Ah, non so come ho fatto a vivere prima, senza conoscerti, sei proprio una persona fantastica, sei proprio una persona giusta. Ecco, quindi già se tu noti, diciamo, questo modo di fare all'inizio, questo atteggiamento, diciamo, di ammirazione che manifesta, beh, ecco, quindi questo devi tenere presente che è un grande, un grosso, un enorme indizio che probabilmente non è proprio la persona giusta, insomma, da questo punto di vista. E poi, però, sempre nell'ambito di questo incontro, vedrai che cercherai in qualche modo di casualmente, insomma, vantarsi di qualcosa. Perché è inutile, non ce la fa il narcisista tenersi dentro la sua smisurata, il suo ego ipertrofico, insomma. Quindi strego ipertrofico in qualche modo si manifesta, in qualche modo esce e inizia a vantarsi di qualcosa, inizia a dire, ah, qua, là, eccetera, inizia, diciamo, che ne so, a dirti che ha la casa Monte Carlo, per fare un esempio, che ha qua, che ha là, inizia a manifestare qualcosa, lo fa in modo casuale. E poi un'altra cosa interessante è che puoi notare, magari se appunto al ristorante, o comunque interagendo con altre persone, tende ad essere un po' maleducato e arrogante, comunque, che ne so, col cameriere, con le persone con le quali interagisce, non sembra proprio di essere, come dire, quella rabbiettina che viene fuori, insomma. Questo, mettendo assieme tutto, un altro, diciamo, un altro indizio è che ti parla male degli ex. C'è sempre avuto degli ex stronzi, degli ex che hanno fatto quello, degli ex che ha fatto il tendo, a parlare degli ex, proprio al primo incontro, dicendo, ah, la tua 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 stronza qua, stronzo là, tutti, insomma, tutti gli ex, e, diciamo, sono stati peggiori. L'hanno, ti parla come di vittima, diciamo, di vittima di persone, di narcisisti, appunto, che secondo lui l'hanno trattato, insomma, in questo modo. Inizia a parlare degli ex, e lui, diciamo, ti dice che è la ricerca dell'amore e della vita. Ecco, questo è... E tu potresti finalmente essere l'amore giusto. E l'ha capito proprio al primo appuntamento, insomma, perché, vuoi dire, ecco, questo è un qualcosa. Altra cosa è, diciamo, è interessato a capire quali sono i tuoi punti deboli, ma di fatto non ti mostra tanti suoi. Anche perché, poi, se tu no... A capirli, ma non empaticamente, quasi come fosse una sorta di godimento, no? A sapere che hai avuto qualche sofferenza, qualcosa. E quindi noti che l'empatia che viene a creare è proprio un'empatia superficiale, proprio un'empatia che si manifesta soltanto superficialmente. Ecco, quindi questo è un qualcosa che devi tenere presente. Non puoi, diciamo... Non puoi renderti conto che, insomma, gli adulatori, le persone con rabbia nascosta, quelle che, appunto, ti fanno sentire che sei il tuo... che sei la persona, diciamo... che sei la persona migliore della sua vita possa essere capitato perché sei fortunata, perché l'universo finalmente si è deciso di mandarti la persona giusta. No, è più probabile che hai incocciato con un narcisista. Quindi tieni presente che si può sgamare dall'inizio, insomma. E basta farci un po' il naso e te ne renderai subito conto. Ed è molto importante perché questo ti risparmierà, diciamo, tantissime sofferenze. Bene, e per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, se non l'hai ancora fatto, così potrai ricevere la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, seguimi sulla pagina TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai farmi delle domande alle quali darò delle risposte precise in apposite live. Ciao!